Di cosa si tratta? Dunque, allora, Crecere l'Avventura è il nome che il Comune di Salerno ha voluto dare all'applicazione di Troll. Troll è in alcune classi di scuola media, in alcune scuole della città. Troll è il social network sicuro per gli studenti delle scuole elementari e medie italiane, voluto dalla Regione Toscana nel 2007, ma che l'Istituto degli Innocenti di Firenze propone a tutte le scuole italiane, praticamente, elementari e medie. Su Troll i bambini e gli insegnanti possono scrivere in piena sicurezza e ci sono alcuni di loro che lo utilizzano come palestra educativa prima di provare ad utilizzare i social network più da grandi.